Manola Di Pasquale, sono stati giorni tremendi per Teramo e di Terramani soprattutto. Voi del Partito Democratico avete preso dell'iniziativa, avete criticato, fatto comunicati in stampa e anche affisso dei manifesti, dei cartelloni enormi per la città. Quello che noi critichiamo è l'incapacità ormai evidente di questa amministrazione di gestire sia anche un momento di difficoltà perché è chiaro che la mancanza di acqua o di luce dipende anche da altri fattori ma è anche vero che un'amministrazione deve poter avere sempre presente con una commissione organizzativa per l'evenienza, per le urgenze, per le famiglie, per i malati, per le scuole. In realtà non si è avuto una gestione neanche dell'apertura e delle chiusure delle scuole in maniera coordinata. Se pensiamo che sono stati lasciati a scuola i bambini, accompagnati la mattina col pommini e non ritirati poi il giorno alle 13 con famiglie che sono fuori per lavoro e che quindi non sapevano nemmeno a che riconsegnarli, ecco se pensiamo che il tavolo operativo per le emergenze non funzionava, non rispondeva a nessun centralino del comune, non rispondeva a nessuno dei vigili urbani e non è stato avviato nessun centralino per avere delle conoscenze di difficoltà delle famiglie, ecco non lamentiamo di questo. Se un anno fa lei avesse vinto le elezioni, come si sarebbe comportata in questo periodo? Cosa avrebbe fatto di diverso da quello che ha fatto Brucchi? Sicuramente avrei fatto un esposto alla Procura della Repubblica per i danni che l'Enel e il gas hanno generato nelle famiglie di Terramane, come è successo anche un anno fa, perché comunque sulle bollette noi paghiamo il consumo, paghiamo anche la manutenzione, sempre. In ogni bolletta c'è una percentuale che va sulle manutenzioni. Sicuramente avrei fatto un tavolo operativo più efficace, avrei messo dei centralini, avrei fatto un'attività operativa per dare una risposta alle esigenze delle famiglie, anche telefoniche, cioè per dare una risposta a cosa fare se sono aperte o chiuso le scuole, quale strade vengono pulite, quando vengono pulite, se vengono pulite. Cioè qui in realtà la città è stata abbandonata, nel senso che non sapeva nulla di quello che si verificava, né come bisognava comportarsi davanti al mancato ritiro dei bambini presso le scuole.